e potrei fare la fine del cancello saluto i fotografi che vedo lì piazzati pronti per le foto e auguro una buona giornata anche a voi ringraziamo anche i ragazzi dell'ambulanza che non vedo ma che sono qua con noi anche questa mattina ringrazio tutti i ragazzi del cittadino che sono qui da stamattina anche perchè è gara al circuito valevole piede d'oro partita ufficialmente la tredicesima edizione della cittadina salutiamolo tutti voi in bocca al lutto il piano che sarà il piano che sarà attenzione posizionarsi a un metro prima delle pedane di rilevazione la gara del nordico inizierà tra 60 secondi 60 secondi 60 secondi 60 secondi о